Se hai la febbre, contatta al telefono il tuo medico che saprà dirti cosa fare. Non andare al pronto soccorso, dal medico di famiglia, in guardia medica o allo scap. Se sarai il medico a dirti di andare in ospedale, fermati alle tensostrutture allestite davanti ai pronto soccorso di Cerignola, Manfredonia e San Severo. Qui gli operatori sanitari, muniti di dispositivi di protezione, effettuano il pre-triage. I casi sospetti vengono trasferiti negli ambulatori dedicati. Se necessario, sono trasportati al policlinico di riferimento su un'ambulanza attrezzata per il trasporto in sicurezza. Gli altri casi vengono assistiti regolarmente nel pronto soccorso. Tutto questo per garantire percorsi differenziati e sicuri ed evitare contagi.